Partiti lo scorso 6 di marzo, i lavori per il rifacimento di Piazza Duomo all'Aquila hanno portato e stanno portando con sé un'attenzione particolare verso quello che sarà il destino dei lampioni che, dopo l'avvio del cantiere, sono stati dismessi e saranno sostituiti. Sul punto intervengono i consiglieri comunali del passo possibile che già il 23 di marzo avevano inviato una lettera aperta al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi su questa questione. In sostanza la proposta del passo possibile è quella anzitutto di conservare al meglio le strutture illuminanti per poi valutare il loro riutilizzo in altre zone della città dell'Aquila, anche tenendo presente la possibilità di sottoscrivere specifici accordi con ad esempio le amministrazioni di uso civico e le proloco delle frazioni aquilane. Un'idea, quella del riutilizzo dei lampioni che tra l'altro si va ad inserire proprio nel solco di quello che il sindaco Pierluigi Biondi aveva dichiarato ai nostri microfoni al momento dell'apertura del cantiere in Piazza Duomo. Un altro tema è quello del recupero dei lampioni storici. Sì, noi recupereremo tutto. La scelta architettonica prevede la sostituzione dei corpi illuminanti. I lampioni verranno smontati, verranno verificati, naturalmente ne verrà verificata la funzionalità e l'adeguatezza alle norme correnti e le riutilizzeremo, così come riutilizzeremo tutti i cubetti di porfido negli interventi che sono programmati in giro per la città.